Bufare di neve continue da ieri sera stringono l'Aquila nella morsa del freddo, del ghiaccio e del gelo. Neve che proprio a causa del vento forte ricopre la città e il suo comprensorio a macchia di leopardo. Situazione abbastanza sotto controllo in città grazie soprattutto al fatto che questa ondata di maltempo arriva durante le festività, scuole chiuse dunque e poche auto e mezzi pubblici per strada. Tuttavia l'appello del Centro Operativo della Protezione Civile del Comune dell'Aquila è quello di mettersi in macchina soltanto per reali necessità e dotati di gomme termiche o catene. Piano neve operativo con mezzi uomini al lavoro già dalla notte. I maggiori disagi si registrano nelle frazioni più alte, mentre l'insidia maggiore resta il ghiaccio. Qual è la situazione? La situazione è sotto controllo in questo momento. C'è ancora qualche criticità nelle zone più alte del Comune, nelle frazioni più alte, dove è chiaro che le precezioni sono state un po' più importanti e soprattutto il gelo. Da questa mattina alle 4 siamo usciti con 9 mezzi spargisale e scansaneve e in più sono stati attivati pure 6 ditte esterne. 6 ditte esterne, ognuna con due mezzi che stanno coprendo le frazioni del Comune dell'Aquila. Il piano neve noi siamo attivi, il nostro piano prevede l'utilizzo, a differenza dello scorso anno, come reabilità immediata. L'anno scorso c'erano 3 mezzi, quest'anno 9 mezzi immediatamente. E poi l'attivazione delle ditte esterne. Stiamo lavorando, stiamo fuori, quindi interrottamente sicuramente non ci fermeremo un attimo. Abbiamo tutto un sistema di pianificazione, il piano neve che prevede delle priorità sulle strade più importanti, sulle strade di comunicazione verso l'ospedale e verso dei punti strategici. E poi passo passo si entra e si arriva nelle zone periferiche, nelle zone dove non c'è l'interesse complessivo. Ma è chiaro che noi cerchiamo di arrivare dappertutto con delle difficoltà del nostro territorio che è enorme. Disagi anche nei comuni montani di tutto l'Aquilano. Intanto sulla base del bollettino meteo, massima attenzione e operatività anche al COV, il centro operativo della viabilità aperto alla Prefettura dell'Aquila, con un occhio ai provvedimenti per la limitazione del transito dei mezzi pesanti su alcune tratte della Statale 17 e della Vezzano-Sora. Osservate speciali saranno per le prossime ore le zone tra Cocullo, Torano, Sulmona, Roccaraso, dove sono attesi neve e gelate. La coltre bianca ha superato gli 80 cm sull'altopiano delle 5 miglia, in particolare a Roccaraso e Rivi Sondoli.